Con noi Mr. Oteri e Gaetano Oteri abbiamo a fine gara visto un po' il suo volto, chiaramente non soddisfatto del risultato, probabilmente più soddisfatto della prestazione della sua squadra. Ma no, un po' è un po', non abbiamo avuto un buon impatto con la gara, poca personalità, poca intensità, abbiamo subito qualche impatto fisico, non siamo stati bravissimi a giocare in velocità, però poi dopo il gol siamo cresciuti, poi l'abbiamo fatto in una maniera esponenziale nel secondo tempo da subito. L'unico rammarico è, come le squadre alla fine si sono divisi due tempi, l'unico rammarico è che non abbiamo costruito molto di più rispetto a quello che ha fatto il Catania, potremmo essere un po' più risoluti nelle situazioni che abbiamo creato in aria di rigore. Dobbiamo avere un impatto diverso con le gare, quello che abbiamo fatto dopo dobbiamo essere in grado di farlo subito, siamo stati un po' timidi, un po' forse l'ambiente, poi alla fine complessivamente la mia è una squadra giovane, alcuni giocatori rientrano alla prima partita come Talia, come Viviani, per un attimo abbiamo fatto fatica a callarci nei toni agonistici della gara, poi siamo cresciuti, prendiamo atto della sconfitta perché poi alla fine, vabbè, tanto non serve, alla fine credo che il pareggio sarebbe stato il più giusto, ma allora hanno fatto gol, noi no, per cui nel calcio ha ragione chi fa gol, è un gol in più rispetto alla passata, quindi c'è poco da dire. Analizzeremo i nostri primi 25 minuti e tutto il resto.